Si chiama busrapido.com, la start-up vincitrice della seconda edizione di Digiton, la maratona delle idee digitali nata su iniziativa dell'onorevole Francesco Boccia che per quattro giorni ha animato le città di Biceglie e Barletta nelle quali si è svolta. La piattaforma, ideata da tre ragazzi romani, si aggiudica il primo premio di Confindustria, 10.000 euro, sbaragliando la concorrenza di altre 99 start-up innovative. Si tratta di un motore di ricerca che permette di trovare e prenotare autobus online scegliendo le offerte più vantaggiose per i viaggi di gruppo. Anche la città di Andria si mette in evidenza grazie a Power Up, una batteria con caratteristiche rivoluzionarie dal punto di vista dell'efficienza energetica e delle prestazioni. L'idea, nata tra le mura dell'istituto ITIS e Iannuzzi, ha convinto la società a evolvere generazione positiva, azienda leader in Italia per gli impianti fotovoltaici, ad investire 7.000 euro per il suo sviluppo. Premiata anche la start-up Trani Set Trip, progetto che punta alla trasformazione degli scarti lapidei da elemento di costo a risorsa economica attraverso l'utilizzo di un'innovativa tecnologia di stampo 3D. Premiati dal gruppo sviluppatori di Google di Bari, anche un'applicazione ideata dall'Iceo De Sanctis di Trani che fornisce consigli utili per la scelta degli outfit per ogni occasione. Il premio Italo è andato invece a Marshmallow Games, una start-up barese che crea app educative per stimolare l'apprendimento delle materie scolastiche mescolando contenuti ludici ed editoriali. Digiton si conferma anche quest'anno non solo come efficace rampa di lancio di idee innovative, ma anche come importante luogo di confronto e di dibattito, come hanno dimostrato i numerosi incontri organizzati a Biceglie e Barletta con i massimi esperti del mondo digitale.